Sono Natascia Rossini, l'azienda è Podere la Cappella e sono la titolare. La famiglia nel lavoro che faccio è fondamentale. A gestire l'azienda siamo io e mio padre. Non è sempre facile. Età diverse, esperienze diverse, caratteri diversi. Però per me il vino è famiglia. Mio padre e mio padre, il vino sono come dei fratelli per me. Ciò che secondo me rende unico la nostra etichetta è che i nostri vini sono lo specchio della nostra anima e del nostro carattere. Il vino ha bisogno di tempo per esprimersi. Ha bisogno di tempo perché è riduttivo pensare che si raccoglie l'uva, si pressa. Il vino è fatto, no? Ci devi dedicare giornate, ore. Frequentarlo quasi come se fosse una persona. Ci devi quasi parlare. Il vino è qualcosa di vivo, quindi non ci possiamo limitare a pensare al vino come un liquido da bere.